Il Superfly ha così tanta personalità che lo si riconosce da tutte le posizioni. Anche lo spettatore al terzanello lo riconosce, solamente nel modo di muoversi o nel modo di correre. Il Superfly è quel giocatore che in qualunque momento ti può inventare qualcosa, da qualunque posizione. Io sono Superfly